Allora, il prossimo punto all'ordine del giorno Ok, allora il prossimo punto è la nomina della Commissione elettorale Per quanto riguarda i componenti della Commissione elettorale che sarà quella che una volta nominata avrà i seguiti da dei primiti provvederà alla nomina degli scrutatori in fase di elezioni e di referendum prenderà atto delle persone che entreranno a far parte anche dell'asso degli scrutatori o delle eventuali cancellazioni che sono dei primiti per il mercato per il comune? Sono essenzialmente... Sì, allora è previsto Per questa nomina voto il scrutino segreto adesso verranno segnati i fogli per la nomina dei componenti sono previsti per questa Commissione due membri della maggioranza e uno della minoranza effettivi e due della maggioranza e uno della minoranza su 20 nel caso in cui gli effettivi non potessero il sindaco non partecipa al voto perché ne fa parte di diritto il Presidente il Presidente qui non partecipa la minoranza che è assolutamente la presenza Allora prima della consegna però devo ordinare tre scrutatori due della maggioranza della maggioranza della maggioranza magari di giovani di giovani che si è il messaggio è della minoranza più giovane della minoranza la maggioranza le ragazze a pesi potete consegnare allora potreste distribuire le schede? Allora quindi il primo voto adesso il primo voto per un membro può essere indicato solo nominativo solo nominativo si parli di domandoli prima e prima per gli effettivi solo nominativo per gli effetti la qualità di voto è l'elezione più anziana sì sì è il segretario è il segretario allora Già questo domandolo è è è è è è No, vieni, fai, perché adesso c'è una stazione dei... ... Svonuto Luzi Svona 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 Manca Svonetta Enna Franco Svonetta Svonetta Svona Perinna Pucciaro c'è il soldo c'è il soldo è il soldo quindi il soldo 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 Grazie. 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 Allora, la prossima commissione a nominare è la commissione per l'aggiornamento dell'anno dei giudici popolari. In teoria potrebbe esserci per normativa anche due membri della maggioranza, ma a noi fa piacere che ci fosse un membro della maggioranza e un membro della maggioranza. Quindi noi nominiamo Simonetta, voi come volete. È una commissione che si aggiorna ogni due anni che viene convocata per aggiornare l'anno dei giudici popolari.